Un appello a tutti i cittadini di Catania Due punti, avete visto lo spazzino in giro? Premesso che abbiamo massimo rispetto per gli spazzini e gli operatori ecologici Ma i cittadini sono arrabbiati per la mala gestione, mala gestione anche da parte dell'amministrazione comunale Che dovrebbe vigilare e controllare Da qualche giorno abbiamo tutti i sacchetti con la terra dietro i condomini, i palazzi, i botteghe E' una vergogna che non ci sia un piano scenere serio Che si attui tutte le volte che purtroppo vivendo ai piedi di un vulcano capita E che non ci sia un piano di evacuazione Ci troviamo sempre a gestire l'emergenza e con l'emergenza si spendono più denari E si nascondono le anomalie